Benvenuti o bentornati sul mio canale. È mia consuetudine quella di portare orologi in cui credo oppure che a me piacciono particolarmente, ma devo comunque accettare che i gussi sono soggettivi. E al riguardo oggi porterò Argon Space One, un progetto di design, oserei dire, nato da due enfants prodigie come Guilherme Laide e Theo Offred. Laide abbiamo imparato a conoscerlo grazie al rinalcio prima di Nevada e poi di Vulcan. Scopriamo insieme questo futuristico orologio. L'orologio è stato ultimamente proposto in campagna Kickstarter, una piattaforma crowdfunding. Prende ispirazione probabilmente dalle navicelle spaziali di Star Wars, più precisamente dalla Millennium Falcon, o almeno questa è l'idea che mi sono fatto del suo particolare design futuristico. Sarà disponibile in varie versioni, con la cassa in carbonio al costo di 1900 euro, oppure allo stesso costo con cassa in titanio o ancora, risparmiando qualcosina, con la cassa in acciaio, ossia 1500 euro. La lettura dell'orologio è la classica tipica dei saltarelli, ma gustiamoci il video di presentazione dell'orologio. Devo però ammettere che questo genere di orologio non fa parte del mio gusto personale. Tuttavia, ho voluto fortemente portare sul canale questo marchio e questa campagna Kickstarter in particolare, perché ho trovato molto molto originale il progetto. Originalità non proprio tecnica, ma più che altro stilistica. Difatti, andando a leggere le specifiche, ci troviamo di fronte a un orologio con un movimento che conosciamo un po' tutti, che è il Soprod P024. A stupire però è la forma della cassa, di certo non proprio convenzionale. La realizzazione poi anche di altri piccoli particolari, come la cura del cinturino, della fibbia e anche del retro della cassa, mi hanno fatto capire che comunque ci troviamo di fronte a un orologio con la sua personalità. Bello anche il packaging sempre futuristico. Per quanto invece concerne la vestibilità al polso, trovandoci appunto di fronte a una cassa sviluppata più in larghezza che in altezza, è chiaro che possa risultare, diciamo, insolita, ma allo stesso tempo adatta alla stragrande maggioranza dei polsi. Al momento della registrazione di questo video ci troviamo di fronte agli ultimi giorni della campagna Kickstarter, che sicuramente sarà un grande successo. Non penso che acquisterò l'orologio, ma comunque è un oggetto molto particolare e originale e potrà interessare a chi vuole un orologio che esca fuori dai soliti canoni stilistici. Sono curioso di conoscere le vostre impressioni in merito. Non dimenticatevi di supportarmi con l'iscrizione al canale. Grazie mille, alla prossima!